3 gennaio, oggi la Chiesa ci fa celebrare, direi, una festa che molti dimenticano perché è ancora frastornata un po' dal clima festaiolo, anche se quest'anno si è vissuto in una maniera un po', diciamo, sottotono. Oggi la Chiesa, dicevo, ci fa celebrare la festa del Santissimo Nome di Gesù. E perché? Proprio agli inizi dell'anno, dopo che abbiamo aperto con la figura di una umanità che si deve lasciar prendere per mano dalla mamma, da Maria, perché oggi la Chiesa ci fa pregare e celebrare il Santissimo Nome di Gesù. Noi sappiamo, voi sapete, che Gesù, Yeshua, vuol dire Dio salva. Nel Nome di Gesù vi è tutta la sua missione, tutto il senso della sua incarnazione. E per capire meglio, per entrare meglio in questa festa, per entrare meglio anche nella nostra devozione al nome di Gesù, vorrei leggervi alcune riflessioni che il Papa, Papa Francesco, ha fatto durante uno dei suoi Angelus Domenicali e mi riferisco a quello dell'11 agosto del 2013, quindi dopo alcuni mesi della sua elezione. Così diceva il Papa, l'amore di Dio ha un nome e un volto. Qual è questo nome dell'amore di Dio? Qual è questo volto? È Gesù. È Gesù Cristo. È Gesù. L'amore di Dio si manifesta in Gesù. Quindi amare Gesù, vedere Gesù, contemplare Gesù, vuol dire non solo contemplare, ma lasciarsi prendere dal respiro dell'amore di Dio che respira per ognuno di noi, per ogni uomo, per ogni creatura, per ogni opera da Lui creata su questa terra. Perché noi non possiamo amare l'aria, dice Papa Francesco, con il suo linguaggio tipico, colorito e provocatorio, dice amiamo l'aria? Voi amate l'aria? Io non la amo. Amiamo il tutto? No, non si può amare l'aria. Non si può amare qualcosa che certamente ci fa vivere, ma che non vediamo. No, non si può. Amiamo persone e la persona che noi amiamo, dice Papa Francesco, è Gesù. È il dono del Padre fra noi ed è un amore che dà valore e dà bellezza a tutto il resto. Un amore, quello di Gesù, che dà forza alla nostra vita, che dà forza alle nostre famiglie, al lavoro, allo studio, all'amicizia, all'arte, ad ogni attività umana. Ma attenzione che quest'amore di Gesù dà senso anche alle esperienze negative della vita, al dolore, alla sofferenza, alla solitudine, alla tristezza, alla malattia, alla morte. Perché l'amore di Gesù dà senso anche alle esperienze negative della vita? Ci risponde sempre Papa Francesco. Perché ci permette questo amore di andare oltre queste esperienze negative, di andare oltre, di non rimanere prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci apre sempre alla speranza. Ecco l'amore di Dio, ecco il nome di Gesù. Amiamo il nome di Gesù per andare oltre i problemi e le esperienze negative e andare e vivere e respirare di speranza. Noi, tu e gli altri. Io vi aspetto domani, Padripo TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!